Giornata particolare oggi a Rosarno perché in visita alla cittadina della Piana ci sarà il presidente del Senato, Piero Grasso, che è stato invitato dall'Associazione Riferimenti, l'Associazione Antimafia, per la giornata della Gerbera Gialla 2015. Rosarno oggi è la capitale della legalità. Prima degli interventi si è svolto un lungo corteo in tutta la città di Rosarno, dal Duomo sino a Liceo Piria, sede della manifestazione. Infatti oggi ricorre la ventiduesima giornata antindracheta della Gerbera Gialla, organizzata dal coordinamento antimafia Riferimenti. La Gerbera Gialla nasce simbolicamente al Reggio Calabria nel maggio del 1993, per ricordare una strage, quella in cui l'Andrangheta disintegrò proprio in quella città l'ingegnere Gennaro Musella. Oggi è considerato il fiore simbolo della resistenza alla criminalità organizzata e in memoria di quella morte è dedicato a tutte le vittime di mafia. Il dirigente scolastico Maria Rosaria Russa ha accolto il presidente del Senato Piero Grasso, assieme alla presidente di riferimento Adriana Musella e alle autorità civili e militari, ed è stata festa nel piazzale del liceo allestito per l'occasione per accogliere gli studenti provenienti dalla Campania e dalla Calabria. Alla manifestazione anche molti sindaci della Calabria e della Piana di Gioia Tauro, il presidente della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa e il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio. Grande emozione nel momento della presentazione della lapide dedicata all'imprenditore Musella, ucciso dalla mafia nel 1982. Alla manifestazione anche un gruppo di docenti in sciopero contro il DDL Scuola, con il quale il presidente Grasso si è fermato, ascoltando le ragioni della protesta e garantendo dialogo e apertura nella fase della discussione del disegno di legge in Parlamento. Centrale nel suo intervento è il ruolo della scuola per le future generazioni nella formazione civica della società. La seconda carica dello Stato ha esaltato la funzione della scuola dei docenti, soprattutto in una regione come la Calabria. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti Gerbera Gialla 2015, un premio speciale Gerbera al coraggio del super testimone che ha permesso la chiusura delle indagini sul delitto di Francesco Bellocco. Gli altri riconoscimenti sono andati a Giuseppe Crazzo, attualmente procuratore di Firenze, a Monsignor Nunzio Galantino, segretario CEI, a Dompino De Masi dell'Associazione Libera della Piana, Diego Busciò, direttore dell'ufficio scolastico Gerbera Gialla. Per i giornalisti in trincea il premio è andato a Michela Albanese del Quotidiano del Sud e a Paolo Borrometi dell'Agi.